Schiavoni, come nuovo segretario del circolo di Termocentro, quali sono secondo lei i primi passi per ricostruire questo PD cittadino? Dunque, noi veniamo da una divisione a livello nazionale che chiaramente ha avuto delle ripercussioni anche nel locale. Siamo usciti da partito, perché noi siamo organizzati in forma partito da un congresso dove ci siamo confrontati, divisi, ma poi alla fine come si fa in un partito abbiamo trovato una sintesi che ha ridato a Teramo, per quanto riguarda il PD, la pienezza dei propri organismi. Quindi sono stati rieletti tutti i segretari dei circoli, ogni segretario ha riorganizzato il suo circolo con dei direttivi di circolo e quindi adesso possiamo riniziare a fare quelle politiche di base che sono importantissime poi per l'organizzazione del partito. Manca ancora per Teramo ricostituire l'unione comunale, in quanto abbiamo ancora un'organizzazione commissariale, quindi abbiamo il commissario Alessandro Mariani, ma presto ritorneremmo ad avere un'unione comunale nella pienezza delle proprie funzioni. Quello che noi abbiamo iniziato a riorganizzare, lo spirito che vogliamo perseguire è quello di dare a Teramo delle idee, quindi ogni circolo si impegnerà a dare delle idee per quello che riguarda il proprio territorio, nell'interesse della collettività. Lei parlava di idee, di dare nuove idee, dove le troverete? Allora, noi partiremo da tutti i circoli attraverso l'ascolto delle varie persone che costituiscono il circolo. Noi i nostri circoli abbiamo tanti tesserati e ciascuno di loro è portatrice o portatore di idee. Inoltre cercheremo di ricontattare, perché le persone vogliono partecipare, tutte quelle persone che negli anni si sono avvicinati oppure sono usciti, perché anche loro sono portatori e portatrici di idee importanti, ma anche tutti coloro, le varie categorie, parlo a braccio delle varie associazioni di quartiere, dei commercianti, dei tecnici e lanci per la ricostruzione, per quanto riguarda che è un portantissimo adesso Teramo post terremoto. Quindi una serie di incontri allo scopo di ascoltare in questa fase e poi trarre una sintesi di partito per poi riuscire a dare delle idee per quelli che saranno i candidati, il candidato sindaco, quindi costituire un tassello di quello che è il progetto del centro-sinistra per il futuro di Teramo. Grazie.